Il primo pensiero di Don Sebastiano, il concerto dà un po' l'idea del futuro, il futuro per un cristiano è fatto così, io credo, cioè gioia, musica, armonia, vivacità, creatività, fantasia, espressione quasi illimitata, perché il comodizio di Faralli è veramente solo un grandissimo pittore, ma come faceva a inventare certe cose e poi scopriamo adesso che funzionano. C'è qualcosa, c'è dentro una carica in questo concerto degli angeli che credo sia qualcosa di cui abbiamo profondamente bisogno, questa carica ci fa bene, abbiamo bisogno di riproporcela, di riviverla, di tornare a sperare in questa cosa.